È uscito Rainfield, il film con Nicolas Cage nei panni di Dracula, Nicolas Holt nei panni di, appunto, Rainfield e, devo dire la verità, ero incuriosito perché dal trailer si capiva che il film non si prendesse proprio sul serio anche perché con questa tipologia di film c'è molto spesso, alla coca in orso anche, c'è molto spesso il rischio che si prendano troppo sul serio e di conseguenza diventino delle merda inenarrabili. Allora, come al solito, prima parte senza spoiler, seconda con gli spoiler. Devo dire la verità, ero incuriosito, dicevo, ero incuriosito perché se non è nuova l'idea di trasportare il gotico quindi il genere gotico degli anni 30 e dei anni anche successivi in ambientazione moderna è nuova l'idea di approfondire, insomma, un minimo il personaggio di Rainfield, no? Che appunto nel film di Browning era, nel 31, era relegato a semplici aiutante qui, insomma, viene indagata proprio la sua figura. Viene indagata bene? Eh, insomma, adesso ci arriviamo. La trama è molto semplice, in realtà, segue appunto la vita di Rainfield, l'aiutante di Dracula Dracula, insomma, sono passati chiaramente degli anni da quel tempo, dal Dracula di Browning, ovviamente e Rainfield deve procurare a Dracula le prede, le nuove vittime questo Dracula non fa differenze, non fa distinzioni di genere tra maschi e femmine quindi non sono più vergini, innocenti, ma sono persone semplicemente innocenti che siano maschi o femmine, non importa e quindi Dracula è, insomma, danneggiato da un recente scontro e deve alimentarsi con il sangue di vittime innocenti e Rainfield deve procurargli. Tutta questa qui, insomma, è la trama e poi andrà, come ho detto, ad indagare il personaggio di Rainfield psicologicamente. Lo fa bene? Ecco, ci arriviamo. Allora, il film è una commissione di generi, senza dubbio, nel senso che mischia parecchi generi la commedia, l'horror, il dramma, lo splatter però i miei due preponderanti, secondo me, sono commedia e splatter. Ovviamente c'è l'horror perché c'è Dracula, ci sono determinati stilemi del gotico quindi è per forza anche horror però i due generi preponderanti sono commedia e splatter. La regia e il comparto tecnico? Allora, c'è una fotografia estremamente esagerata, pompata, su colori pop, verde, blu, rosso tutti questi giochi di luce che, secondo me, ci stanno nel senso, si sposano benissimo con... eccessiva è la fotografia e eccessivo è il trattamento che subisce il film almeno nei primi 40 minuti perché poi il registro cambia e ne parleremo dopo nella parte spoiler quindi, la fotografia secondo me ci sta, si sposa bene con il resto del film la regia anche, quando deve prendersi poco sul serio, lo fa benissimo i tempi comici in alcuni casi sono buoni l'ho visto in lingua originale, quindi per me le commedie sono fondamentali cioè, vanno viste, fondamentale la lingua, vanno viste in lingua originale e da qui anche l'interpretazione di Nicolas Cage e Nicolas Holt che è perfetta, Nicolas Cage è grandissimo è veramente perfetto, sembra immedesimarsi bene il personaggio insomma, bello, è anche simile come fisico di Roll a Bella Lugosi così come il Rainfield di Nicolas Holt è simile anche come fisico appunto al Rainfield di Todd Browning e, dicevo, la regia quando si deve prendere poco sul serio lo fa bene, ok? nelle scene d'azione però, allora, gli effetti speciali anche sono decenti il sangue è orribile, il sangue CGI durante le scene d'azione è orribile e ce n'è tanto, lo splatter è molto spinto e le scene d'azione però, proprio i combattimenti, sono secondo me girate veramente male, nel senso che a volte non capisci non hai più la concezione dello spazio non capisci, sembrano raccordi totalmente a caso non ti accorgi dove sei, che cosa succede sembra essere in un'altra stanza, a volte nella stessa scena d'azione quindi per quanto riguarda il montaggio delle scene d'azione è un po' malino, secondo me però, ripeto, è tutto mandato in cacciara quindi anche sti cazzi da un certo punto di vista ah, dimenticavo, se le scene d'azione sono fatte, secondo me, malino dal punto di vista della regia e del montaggio a compensare vengono in aiuto un po' i movimenti degli attori nel senso che Dracula e Rainfield si muovono come due cose effettivamente naturali come due esseri non umani e ci sta, quello ci sta e compensa, secondo me, questa regia e montaggio fatte un po' a cazzo di cane dicevo, il film si concentra sulla figura di Rainfield e ovviamente su tutto ciò che ne consegue cioè rapporto servo-padrone e da qui mette una premessa, una domanda è se Rainfield fosse in una relazione tossica? perché il film inizia proprio in quel modo lì inizia con Rainfield in una sorta di gruppo tipo alcolisti anonimi ma in realtà per persone che appunto soffrono di una relazione tossica e non riescono a liberarsene quindi il film inizia proprio così e quindi è molto divertente questa cosa però secondo me, ecco, il film è un non tanto un vorrei ma non posso quanto secondo me un potrei ma non voglio perché, ripeto, i primi 40 minuti secondo me sono molto buoni anche divertenti e indagano con precisione il rapporto tra i due il rapporto anche di coercizione mentale che c'è tra Dracula e Rainfield e per me era perfetta questa cosa per rappresentare la relazione tossica, no? però è sempre buono rappresentarla per me perché ormai, cioè, alla fine questo film si rivolge comunque ad un pubblico giovane e nel pubblico giovane in particolare su TikTok, che per me è il social del demonio vedo sempre un po' romanticizzare la relazione tossica quindi è sempre bene sottolineare quanto siano il male questo tipo di relazioni e Dracula e Rainfield sono perfetti perciò dico, il primo in 40 minuti mi ci stavo pure divertendo poi il ritmo è molto scorrevole per tutto il film il punto è questo secondo me principale che quando il ritmo rallenta non succede nulla ma non non succede nulla narrativamente non succede nulla al personaggio di Rainfield quando il ritmo cala a livello proprio di montaggio di tempi non c'è una vera, secondo me, introspezione e a testimoniarlo è anche un po' la conclusione e quella sorta di crime messa a cazzo di cane un po' insieme all'altra roba per crime intendevo ovviamente la linea narrativa crime che c'è all'interno del film quindi con questa poliziotta il cui padre è stato ammazzato dalla mafia e quindi il conseguente trattamento della mafia nella storia eccetera eccetera quella secondo me è un po' roba inutile però tutto sommato il film secondo me si lascia guardare il soggetto ha gusto per stran personale chiaramente ma si lascia guardare e ha un grande pregio secondo me veramente ti ho interrotto la registrazione dicevo il film ha un pregio gigantesco che rispetto alle merde del cazzo come Fast and Furious che dura due ore e venti che io stavo veramente per fare un gesto estremo in sala questo qui dura, ha il buon senso di durare un'ora e venti un'ora e mezza scarsa almeno, cioè io ti faccio l'investimento perché anche se il film non dovesse piacermi un'ora e venti sto a casa ecco per me così vanno fatti questi film anche un po' alla cazzo di cane ma lo stesso Cocaine Orso che durava anche un'ora e mezza ecco questi film qua hanno questo devono durare devono avere questo tipo di durata insomma quindi in conclusione il film secondo me ci sta però secondo me è un'occasione un po' sprecata perché era anche bella l'idea di prendere Rainfield come personaggio di approfondirlo per questo personaggio sia per quanto riguarda gli aspetti psicologici sia per quanto riguarda gli aspetti fisici quindi il fatto che lui debba mangiare degli insetti ed è stato sfruttato il fatto degli insetti a livello narrativo ma non tanto per quanto riguarda la linea comica ecco la linea comica quindi secondo me è un'occasione un po' sprecata potevano fare un po' di più quindi niente e adesso passiamo alla parte spoiler do un po' di tempo per uscire 3, 2, 1 allora non c'è molto da dire in realtà per quanto riguarda la parte spoiler parto da questo fatto degli insetti ecco gli insetti sono usati a livello narrativo nel senso che lui incontra quel ragazzino con le formiche a cui prima da la formica poi dopo usa quelle per avere la forza quando non trova gli insetti quindi sono giustificate si vede che non è stato scritto al cazzo di cano non è che lui trova insomma un minimo di coerenza c'era ma secondo me si poteva dico per dire usare gli insetti anche in un modo comico quando lui mangia gli insetti davanti alla poliziotta gli si poteva far fare qualcosa del tipo insomma gli insetti oggi si mangiano c'è stata tutta la questione sulla farina di insetti la farina di grillo quindi ecco si poteva anche usare un po' di più secondo me da quel punto di vista ecco parlavo prima del finale il finale chiaramente fa il paio sul tono che si dà a tutto il personaggio di Rainfield e cioè il fatto che lui sia in realtà intrappolato in una relazione tossica non è che lui voglia essere l'eroe se all'inizio lo vediamo dice qualcosa del genere ma poi capiamo che in realtà lui vuole semplicemente essere se stesso nel senso vuole staccarsi dalla figura di Dracula che gli impone di assoggettarsi a lui psicologicamente, fisicamente insomma quindi sono veramente tutti i dettami della relazione tossica quindi perciò dico la relazione Dracula-Rainfield funziona bene il problema è che è stato dato spazio a scene scene d'azione no alla fine gli scazzottamenti ci stanno in realtà sono anche pochi quindi va bene è stato dato spazio a questa storia crime la poliziotta con la sorella il padre la mafia secondo me era meglio mettere da parte un attimo queste cose cioè meglio potevano anche inserirle ma in quantità un attimino minore e concentrarsi meglio sulla questione psicologica Rainfield-Dracula perciò dico come se questo film fosse un vorrei perché io ti ho dimostrato di o meglio un potrei perché ti ho dimostrato di poterlo fare effettivamente cioè il fatto che io abbia avuto l'idea va bene ma non voglio ecco potrei ma non voglio questo è secondo me alla fine anche perché ripeto il finale cioè lui sta lì riesce a uccidere Dracula semplicemente perché credo in me stesso credo in me stesso credo in me stesso prima che lei faccia insomma il cerchio fatto di cocaina vabbè però lì semplicemente dice credo in me stesso adesso non si esce così da una relazione tossica quindi perciò era meglio secondo me approfondire un attimino quell'aspetto lì però ripeto il film si fa guardare sti cazzi quindi va bene così fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto mettete like e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo Grazie.